E' probabilmente un malore improvviso la causa dell'uscita di strada autonoma di cui è stata protagonista un'anziana signora di 84 anni alla guida di una Fiat Panda mentre stava rientrando a casa. La donna, che abita a poca distanza dal luogo dell'incidente, che aveva accusato qualche malore nella giornata di ieri, si trovava lungo via Bevano in località Carignano, poco dopo le 12.30, quando in una curva ad esse ha perso il controllo dell'auto finendo in una piccola scarpata e schiantandosi contro un olivo nel cortile di un'abitazione poco distante. Il fragore dell'urto ha subito richiamato dalle abitazioni i residenti che però non hanno potuto estrarre dall'auto la donna in quanto era incastrata tra i sedili dell'auto e pertanto hanno subito chiamato i vigili del fuoco e il 118 che sono arrivati sul posto contemporaneamente. La donna, una volta estratta dai vigili del fuoco, è stata presa in cura dai sanitari che l'hanno caricata sull'ambulanza e trasportata al Santa Croce di Fano per gli accertamenti del caso. L'84enne per tutto il tempo dell'intervento però non ha perso conoscenza e fortunatamente, vista la ridotta velocità del mezzo in quel tratto di strada in salita, non ha riportato gravi conseguenze se non una ferita lacero contusa all'avambraccio sinistro. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale di Fano per i rilievi di legge.